Perché dopo mi crasha, connettiti da me perché dopo non va e la cosa lì, quella roba... Sono già da te perché, non lo so, mi ha buttato direttamente già da te. Perché abbiamo più di 5 ore di gioco insieme, quindi ti mette automaticamente da me. È molto semplice. Forse voleva che io ti entrassi nel sedere. No, no. Perché c'è uno che ha scritto I love you? Diamo la mia base operativa, signor Doc. Tu sei da picchiare. Sto cantando in cinese. Anche in cinese adesso posso cantare, ma sei proprio un pezzo di mito. Vaffan cu. Ma c'è un inseguimento e io mi ci unisco. Ma io ti inseguo la famiglia. Ma che bello questo quadrato che salta gli ostacoli di lato. Ecco il gioco, poi chi se lo piglia? Se tu perdi ti ammazzo la famiglia. Eccoci qua in base operativa. Ora ti invito nel CEO, mi sono dimenticato, scusa. F per il tavolo è di RGB. No, aspetta un attimo che ho dei conti da sistemare con un tipo. Con un tipo? Con un tipo che è tipo a livello 1. Io stavo guardando i cavoli miei. Tu che vai a battere i livelli 1 sempre se riesci. Eh? Che cavolo. Razzo a questo. Da. Lugnafav. Lugnafav. E adesso? Incredibile! È esploso l'elicotteri, non so chi sia stato. Che senso. È abbastanza. Perché l'ho ucciso una volta o due. Andiamo appena a spawner, dove sta? Sopra di me. Guarda, l'ho messo per qua. Ti ho mandato il CEO. Eh, aspetta che lo devo abbattere. Va soppresso. L'ho ucciso mentre lui. Ma cosa ruba in alto? Ma spawnati, l'ho preso. Deficiti. Sì, continuo altri 5 minuti così. Allora, prendiamo gli snack. Ho già il massimo, ok. 9000 dollari, mamma mia, che schifo. Salve, poliziotti. Bonjour. Vous parlez français? Puoi entrare nel mio CEO, grazie. Un attimo, devo uccidere l'ultima volta il tipo. Così siano a 5 e solo pari. Allora. Ah, ma questo è tipo quello che ti ammazza. Fa tanto il bello e poi quitta. Oggi voglio fare una live un po' più lunga. Doc, l'ho invitata. Aspetta. Si muova. Voglio aprire il suo culo. Però se arriva anche quello con il coso, devo l'oprire. Muoviti. Oggi le dolore, vieni stacossermi. Stacossermi. Allora. Allora. Ok, ma vai in voi. Mi vuoi dire. Fammi comprare il ciopato di proiettile. Perché sennò ti giuro una roba che tocchio e ti infilo un p***o dritto. Dritto. Perché non ho l'azzo intorno? Raimundo. Adesso. Però perché non posso mettere vestito da... Perché non posso mettere vestito da... Ma non ho l'abberato. Sai già? Prima, è bene così. Io volevo fare. Non ho l'abberato. Non ho l'abberato. Non ho l'abberato. Sì, ma scusami, scusami. Ho l'abberato. Scusa Bello questi 35 fps Ne faccio sempre Perché la zeporno blu Sei te che c'hai la grafica più decente E' sicuramente che io c'ho la tua famiglia Tutto Cosa l'hai messo in 7.20 il gioco? Scusami In l'80 Che poi è 7.20 Quindi non cambierebbe niente a mettere in 7.20 Io c'ho tutto al minimo E faccio 122 Tu che upgrade hai sulla zeporno del matore? Boh Credo uno Lo so devo aggiornare Infatti con i soldi Infatti volendo ti posso anche raggiungere Solo che devo posare i soldi Perché se schioppo Faccio danni Ti aspetto qua vediamo se mi raggiungo Su Eh io sono passato da Clinton Franklin La rampa doc L'albero anche in faccia Ho preso E prendi tutto Ahia Adesso possiamo uscire Amanda prende tutto Adesso possiamo più vicino al porcile Che bello C'è un problema Io sono bloccato in un giardino Io l'ho doletto di fare il giardiniere Comunque si deve mettere Battuto in fragrante Vedi quando try hard Io so guidare su questo gioco Se fossi sulla vita reale Come su stu Vabbè hai capito Sì è vero La Zentron è una macchina dell'online Con una macchina offline Adesso sarebbe una scatoletta di tonnasi Di nasi con il tonno O di tonni con il naso Un'auto di merda Vai via Questa macchina non è uno skateboard Sì È uno skateboard È un board skate È un board skate Ah Dopo voglio mettere Anch'io la grafica minima E vedere quanti FPS Faccio Su 200 per forza Su Zizia Zizia Perché devi riavviare CTA Ah sì Non lo sapevo Zoc Zizia 6 Zizia 6 Allora Questo pezzo di Immagini Montecchio Ma già Ho infilato di un palo nel culo Ok basta Io direi anche una mano intera Anche Amanda Che lazy Arrivo doc Faccio il salto Che schifo Per un metro Non sono arrivato sopra la Wee Villando doc Andiamo a mettere Sto toglando Che schifo No che merda qua Pien di roba La macchina Ho parcheggiato Perché lo chiamano Incivile Incivile Scusa Parla L'italiano In corretto L'italiano Bravo Vedi che impari Inferita Vai Vai Io ne so Ho già fatta una Più o meno No non è vero Io non ho neanche iniziato Dai ma che palle sono incastrato Ma chi è che progetta questi palazzi di Di merda Anche le strade Fanno cagare Però Preferisco Soltare i palazzi Che le scale Il canone esplode Stavo per esplodere da solo Le auto immobili No sono entrato Oh ecco il si Il si plus plus Io mi son rubato una palma Io mi rubo Amanda Bravo 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 brutto pezzi di merda Di macchini di Montecchio No 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 Brutta merda Guardate un bersaglio Vieni qua Te Così non mi spari E non è che queste esplodono Dopo due missili Ma solo per questa missione Esplodono dopo una Questi Furgolcini Deve Lecce a fare l'ultimo No Mi serve una mano Una lunga mano Arrivo No Sto spessando Sì che ci esco Sto già partendo Intanto Io ho la boss Operativa Più avanti Di tutti Perché hai voluto Farla per prima Eh non è vero Colpo di Marcello Così a caso Che c'entra Marcello E' una persona non tanto brava Letteralmente la mia Deluxe E' un po' sfrisata E basta Non si è fatta niente La mia La mia Contravalo No Ho messo via il fonéfono Esplodiamo Gli auto immobili Siumi 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 Ah io sono già in mare Mi manco anch'io O no Aiuto Ah mi ero Spuggato Siumi 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 Stavo lo mettesse in automatico Ma lo ho messo in automatico Ma L'altra volta lo aveva messo in automatico al volo Stavo lo mette mai in automatico Ma si L'ho messo in automatico No No Failo da sola Quest'auto Vuoi capire che non ha un'intelligenza ufficiale E non arti Perché non hai arti Ma Infatti è sto un posto per risarmi In tedesco Spotify si dice Top Topsy Fai Che è scritto Topsy Fai Topsy Fai Perché c'è i tuoi Spotify in tedesco Sì Sono svizzero E allora Ja Mangiare pampini Io lo so perché Stavolta non farò esplodere La delasso Hai Brutto figlio di puttana Con chi ce l'hai adesso? E con gli incivili Che bello Ma è quella del mare? Sì Camion di merda Io mi ovverizzo Ah che bello ovverizzare Guarda come ovvera No sono a Grove Street Vanno ti spavano i tipi a Grove Street qua Ma a me vola la delasso Perché? A me sono Non riesco a farli Perché ovviamente Chi è che sei andato a filare A Grove Street? Dovina un po' il genio Lol E che non ci esce più da Grove Street Ecco il problema Perché È praticamente circolare Quindi ti tocca Riprendere la strada per l'arena Investire i civili Perché sei arrabbiato con tutto il mondo Distruggere i pali Lanciare razzi Fare tante cose simili E augurare buon anno Dovrei aver quasi fatto questo E uno l'abbiamo fatto Io sono a quota 0 di No sto andando Sto andando Ce lo faccio E fa il tuo brutto bastaio Che è il bastaio E' quello che accudesce le pepe Davvero Però Ci siamo Tutto per fare il secondo Ah non la puoi spegnere Mentre sei in acqua Dove Si è fatto apposta E che era fatto apposta C'era arrivato C'è nel senso Non pensavo il gioco Avesse imparato Ad autoprogramma Il barco Ha fatto un investimento Col barco Il barcone Che bella di satis I barconi Ah io sto rivasciando I barconi Sabe io sono qua Solo per lavoro E non iniziamo Con cose complicate Wow Pompieri Pompieri Spegnere incendio Io ho tu Hacker E io ti proteggo dagli elicotteri Forse faccio la provata del secolo Sii No C'ero riuscito Hackerò io Hackerò io No Ho perso di averciato un razzo A notare di più veloce Un'auto volante Che un aereo Wow Gli aerei vanno a 900 km orari La delasso Dove stiamo andando? E' russo questo aereo Non vorrei dire Ma si è baggata la missione Se ne stiamo andando da una parte sbagliata Dovrebbe girare di là Ma è bancina Probabile che vado a giocare E' russo E' russo questo aereo Grazie Matti Buonanotte anche a te Ci vediamo domani Io ti proteggo dagli elicotteri Tu Hackeri Si ma mi pare anche giusto eh Io ti proteggo dagli elicotteri Ma tu stai hackerando Si da mezz'ora Ma no non lo facevo a fare Eh ma sei un deficiente E dici Io ti proteggo dagli elicotteri Tu Hackeri E poi non lo facessi tu Ma Spensi te Io Ma sei baggato Cioè Ho dato una pinnata Qua se stu aereo Rossio Oh ma sto elicottero Oh Fatto No No Si è baggata la deluxe Aiuto Si è baggata la deluxe Eh vabbè Questo è il motivo per cui si è un caduto Vedi che poi non si stabilizza più Ok Ok Ho fatto il download Data secolo Ah Cosa 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 Trick shot A360 Con leve deluxe Ah Ho preso un aereo Mentre rotovavo in cielo Guarda che trick Ho imparato a fare Con la deluxe Guarda 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 Spegni Il motore Giri Rote E poi accendi Il motore Così implodi meglio Il doxus Il sudoku Il sudoku Il sudoku Ah io spago il terrore Oh il terror Dipende Potrei spavere Ma anche terror Ah Autocivile Muori Siu 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 Salve Io Io sono un attore Dove O fare Per fare più Così Del genere Che tu mi lasci fuori dal teatro Perché io ho fatto parte di questa operazione segreta Inesegretaria Sono atterrati in un modo un po' strano però Vabbè Visto È stata Express Sei Indecibile Guarda che si scoppiava la dell'asso Non lo so Il veicolo non posso perché l'ho già vinto ieri Mi dici veicolo Io vinco Però ho vinto il veicolo Però mi ha dato 20.000 di rp Va benissimo perché arrivo quasi a livello 60 Però mi ha dato due volte il veicolo in due giorni diversi Di fila però Questo significa perché tu sei Sei riuscito ad entrare? Basta fare avviare GTA Madonna è lento come il gioco È un cosacca di gioco Hai capito Il forno Madonna Il forno Non mi faccio Ok Perché c'è scritto che stai giocando a Grand Theft Auto V su Pk Che rischio Supk Eeeh Ma sono fermo solo io? Doc Oh Io le strappo un sorriso Andiamo La dell'asso Ok Ok Rompiamo i ventri della dell'asso Ma che sono? Ti preghiati di sti cosacca di vetri? Oh Oh C'è una merda eh Dovevo rompere i ventri Volevo... Cioè io ti ho chiesto di abbassare i finestrini E te non lo fai io Tiro bombe Li faccio esplodere Questi sono solo un'ultima Dio Ma che non si può essere Ma che ti ho esplosato la boba ti sento Ti sento Boll Ma che vuole una tubo bomba Guardi che bella I suoi bombi Vai tiralo su questo No Sbagliato Spespes Spes Andiamo sul prossimo Cerco di stargli vicino eh Vai 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 Tento a esplodere vicino Tupo bomba Tupo bomba Tupo bomba Tupo bomba No Non è esplosa Spespe Spespe Facciamo una cosa bella Ci attacco Questa Qui Perca putta Eh Ho avuto paura eh Ma io le distanze le prendo bene Non ti faccio no Non ti farei mai esplodere in alto Tanto Aspetta Eh vabbè Si può fare stealth Si si può fare stealth Ciccio vai stealth Eh si si può proprio stare stealth Colpa tua che ha tirato le granate Allora io lo farei E' tanto per Ciccio Il super detective con occhiali Che dà la caccia ai criminali Dai sei un colio non ciò botto con i proiettili Stratto 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 Ventario Munizioni No Stratto Non ho Stratto Oh quanta gente c'è Stratto 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 Lo faccio Che faceva schifo Io l'ho usato per un po' di tempo però Poi ho detto basta C'è qua un altro Vai, perlustriamo il motel Cerchiamo stoppirla Ho trovato Ma dov'è questo? Aia Dock c'è troppa gente Ah ci penso io Deve aiutarmi a scortare Chang La gente si diminuisce sempre di più E non riesco a capire il perché No, sono baccati nelle pareti Venga Chang Lui è mister Chang Venga Tao Chang Ma viene sto cinese di me Ubriaco Ma è rotto Hai preso un cinese rotto Un cinese fatto dai cinesi Questo non lo puoi usare per... È una cinesata di un cinese questo Guarda, è completamente ubriaco Cosa fai col muletto? Dai che lo ammazzi Eh ma io salirei io lì Ci salglierò io Nooo Bastiano Escusa le auto che sei Io ti copro con il mitra Quale il Kalashnikov Nel Kalashnikov Questo mi dispiace Vai piano però Perché dopo ti la metti Questo qua mi sta parlando in cinese Io non capisco un cazzo Il cinese Io non capisco la lingua delle tastiere cinesi Tu potete parlare c... 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 Citaliano Cita In italiano Io cito l'italiano Sai che ci arrivo con il treno? Non ci arrivo con il treno Addio treno Lando Esplodi male Lando Con il landamento Che se l'handi distratto L'handi 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 Vabbè io adesso qua Che faccio? Niente No 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 tipi no Tipi no 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 Mi hanno scop... Sono scoppiato Per sbaglio Ma i tipi mi hanno chiedato Sì ma no Grappare di nuovo Che sono quasi al casino Ti provo È già finita la missione Per la tipa adesso Ne voglio fare un'altra così È bella Molto più divertente questa Della popolista E dai c'è tempo Ne facciamo un'altra Sì sì Carta Oh doc Ma va il fanculo Ho perso 10k Doc Allora ragazzi Il doc è tornato in vocale Però non lo sento Doc Se no per stasera Basta così Usciamo dall'attività Andiamo al bunker Dai C'ho 100k Voglio andare al mio bunker Andiamo Andiamo Allora Allora Mi fai entrare nel bunker Grazie Allora Uh La ricerca è quasi alla fine Andiamo a sbloccarla A sto punto Tanto Costerà massimo 100.000 No 75.000 Boh Facciamo 75.000 Speriamo Allora Ricerca 45 è meglio Abbiamo sbloccato una livrea Di merda Ok Quanti Progetti Mancano 6 7 Manca pochissimo Potrei acquistare le scorte Ma non ho voglia Quindi Ragazzi Noi cominciamo A chiudere GTA Online Che per stasera Abbiamo fatto diverse belle cose Abbiamo fatto diverse belle cose